Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multividia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Canenzana e B1 Variante in direzione Bologna. Regolare il traffico altrove. In FIPILI troviamo personale su strada per lavori tra Firenze e Scandiccia e la Strassigna, e tra la Strassigna e Ginestra possibili rallentamenti. Per la canteristica segnaliamo che sono partiti i lavori stabiliti dagli uffici della città metropolitana di Firenze per la costruzione della rotatoria allo svincolo tra la SR69 e l'uscita 1 di Incisa a Valdarno. Ci troviamo in località Ciliegi. Possibili disagi. Ultima pagina per il traffico aereo. Il volo Firenze-Roma delle 11.40 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 13.30. Parte alle 13.30 con mezz'ora di ritardo anche il volo Pisa-Berlino. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio. Grazie a tutti.